Non per forza e per potenza, ma per il mio spirito dice il Signore, ora non per forza e per potenza, ma per il mio spirito dice il Signore, ora non per forza e per potenza. Ma per il mio spirito dice il Signore, ora non per forza e per potenza, ma per il mio spirito dice il Signore, ora non per forza e per potenza, ma per il mio spirito dice il Signore. Ma per il mio spirito dice il Signore, ora non per forza e per potenza, ma 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 per alzare le tue mani i miei occhi non possano vederti ti posso sentire io so che tu sei qui perché le mani non possano toccare il volto così io so che tu sei qui sei qui ma per il mio spirito dice il Signore non possano vederti l'offesa ma per il mio spirito dice il Signore non possano vederti non possano vederti ma per il mio spirito dice il Signore non possano vederti non possano vederti non possano vederti ma per il mio spirito dice il Signore non possano vederti non possano vederti ma per il mio spirito dice il Signore non possano vederti non possano vederti ma per il mio spirito dice la ma per il mio spirito dice il Signore Grazie.